L'Europa verifica come vengono spesi i soldi dell'Unione destinati all'accoglienza ai migranti. Una delegazione fa in queste ore il tour dell'isola. I dettagli da Letizia Vella. Ci vuole più Europa è il commento di Jean Artouy, capo insieme alla bulgara Iotova della delegazione europea in visita in Sicilia per conto della Commissione del bilancio e delle libertà civili. Sotto esame il modo in cui vengono spesi i finanziamenti europei e trattati i migranti. Il centro di Pozzallo, visto stamani, potrebbe non essere l'hotspot ideale, ovvero il luogo di identificazione degli stranieri da cui partono le richieste però per cambiare il trattato di Dublino e dare maggiori risorse all'Italia. Ma ci vuole più solidarietà. Con maggiore contezza, con maggiore consapevolezza da parte dei parlamentari cerchiamo di far sì che il Parlamento europeo esca con una posizione forte e univoca che possa portare il Consiglio e quindi i governi degli stati membri ad adottare quelle clausole di solidarietà e cercare di lavorare per un sistema di immigrazione comune.